un incidente può per magia farti incontrare beh penso che lei l'anima gemella e io abbiamo avuto un brutto incidente di che parli noi non siamo davvero qui ho smesso di aiutare gli spiriti tanto tempo fa e come fai a vederci per il ciclo magic night lo spirito del natale domenica in prima serata sulla 5